Io credo che la radice della discriminazione sia sempre la stessa sia l'ignoranza, sia la mancata conoscenza dell'altro, sia l'assoluta cecità nei confronti della bellezza della vita che si dispiega nel suo calidoscopico possibilità di essere, di esistere, di vivere e di amare. Compie otto anni Poetè, l'elegante rassegna culturale ideata da Claudio Finelli a base di libri, teatro e infusioni di tè. A partire da giovedì 20 ottobre il foie del Chiaia Hotel de Charme accoglierà una serie di appuntamenti legati dal filo tematico del contrasto all'esclusione e ai pregiudizi. L'albergo di sua natura accoglie turisti o persone che vengono per lavoro nella nostra città. Mi ha fatto piacere quando con Claudio ci siamo incontrati poter sfruttare questo ambiente che in realtà è pubblico ma poi è ristretto solitamente solo una piccola fascia di privati che lo utilizzano per i loro soggiorni anche alla città. A Poetè si parlerà quest'anno di omofobia e di transfobia, di migranti, di solitudine, di amori senili e di amori impossibili, di grinder e di calcio, di ragazze sfruttate dal mercato del porno, di gerarchie vaticane, di fiabe, di vino e di felicità. Fra gli ospiti di questa edizione la scrittrice Dacia Maraini e il poeta Franco Buffoni. Il claim di questa edizione è perché qui la cultura è di casa, la casa è al centro ma la casa non è quella in cui ci ritiriamo la sera, la casa deve essere la nostra città, deve essere la nostra terra, deve essere il luogo in cui stiamo bene con gli altri, di qualsiasi pelle, di qualsiasi etnia, di qualsiasi orientamento, di qualsiasi identità noi siamo. La rassegna di Poetè ha il patrocinio morale del Comune di Napoli, della città metropolitana, della regione Campania e il sostegno di diverse associazioni del territorio. Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Il Comune di Napoli appoggia fortemente questa iniziativa perché la cultura è proprio quella che salverà il mondo, nel senso che all'interno delle varie formazioni, delle comunità, dalle scuole, nei quartieri, nei presidi territoriali vicino ai cittadini, bisogna portare avanti l'informazione contro la discriminazione, le differenze e arricchire i progetti per gli abitanti. Per la giornata del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza delle donne, abbiamo invitato la rassegna Poetè a manifestare l'interesse di partecipare, abbiamo i centri giovanili che sono posizionati nelle municipalità delle nuove centralità e sarebbe molto interessante contaminare anche zone diverse dal centro città. Il programma completo degli eventi sulla pagina Facebook di Poetè.